Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione di tutte le monete verdi per la settimana 7 della stagione 3 di Fortnite capitolo 2. La prima moneta si trova qui praticamente a sabbie sudate in prossimità del castello. A dire il vero si trova proprio all'esterno del castello a sabbie sudate. Non potete sbagliarvi perché è facilmente individuabile. Comunque ve la mostro lo stesso. Vedete la moneta si trova praticamente fuori le mura del castello. Eccole qua. Le mura. Ecco la moneta. Voilà. Questa è la prima moneta verde. Passiamo alle altre. La seconda moneta verde si trova in questa casetta alla foresta frignante. Potete vederla già dalla mappa. Non potete sbagliarvi. La moneta verde si trova praticamente nella casetta. Quindi atterrate qui nei pressi di questa casetta. Aprite la porta e voilà la seconda moneta verde. La terza moneta verde si trova praticamente su questo ponticello qui. Questo qui. Abbandonato. Ha brughiere brumose. Ed è praticamente ben visibile. Vedete? La moneta verde si trova praticamente sul ponte. Quindi la vedete già dall'alto. Quindi è il piccolo ponticello che si trova qui praticamente vicino brughiere brumose. Vediamo adesso l'ultima moneta verde. La quarta e ultima moneta verde si trova qui praticamente su questa casetta in alto. O meglio non sulla casa ma nel boschetto nei cespugli vicino l'entrata della casa. Qui dove ho messo il segnalino in alto qui. Vedete? Praticamente arrivate qui, distruggete i cespugli e voilà. Questa è l'ultima moneta verde della settimana 7.